salve amici e amiche mie e voglio avvisarvi che la votazione per quanto riguarda il piatto per la ricetta in diretta è terminata e il 42 per cento di voi ha scelto il piatto di orecchiette con crema di broccoli e vongole e adesso io vi do gli ingredienti per quattro persone per quanto riguarda questa ricetta mi raccomando attenzione prendete nota metto un po gli occhiali così magari vedo meglio allora per quattro persone abbiamo bisogno di 320 grammi di orecchiette di 500 grammi di broccoli baresi mi raccomando le cimette già belle pulite e lavate e sistemate 750 grammi di vongole dell'olio di oliva del peperoncino un po spicchio d'aglio del vino bianco e del pizzico di sale un po di sale poi che cosa serve per questa ricetta per preparare questa ricetta serviranno un paio due pentole una padella capiente e un frullatore niente di più e come ho detto prima i broccoli già li farete trovare già mondati e lavati e le vongole altrettanto anche loro pronte per la cottura e poi se potete portatevi avanti con l'acqua in ebollizione e penso di aver detto tutto volevo avvisare che ho aperto un nuovo canale il vlog di zia franca e se volete iscrivetevi a questo canale e mi raccomando attivate la campanella per avere tutte le notifiche e allora amici miei io vi aspetto venerdì primo febbraio 2019 alle ore 19 per la ricetta in diretta e un abbraccio un saluto e un bacio a tutti da zia franca vi aspetto tutti carichi e forti ok grazie a tutti ciao grazie a tutti